parliamo di un'uscita recente uscita recente proprio di questo mese è il nuovo libro di Sibia Ziche una grande autrice maestra esatto italiana di fumetti e questo libro si intitola la gabbia uscito per Feltrinelli comics è un libro diciamo allora la ziche è sempre molto diciamo legata all'attualità la quotidianità la propria anche attualità e quotidianità cioè quel personaggio è lei fondamentalmente spesso in questo caso diciamo l'argomento e anche gli eventi affrontati all'interno di questo libro sono credo particolarmente personali probabilmente sì non è al 100% autobiografico però una storia personale e universale che unisce dramma e commedia con una profonda stai leggendo dietro esatto vai con una profonda con una profonda e toccante analisi delle relazioni fra madre e figlia sì allora fondamentalmente questo libro è un dialogo un dialogo tra una donna e sua madre appena scomparsa questa madre appena scomparsa che però si ripropone all'interno della testa di questa donna come una sorta di voce di coscienza o di personaggio che in maniera quasi pixaria cioè tipo inside out abita la mente della protagonista e dialoga con lei analizzando un po' quella che è stata la loro storia e la loro relazione di madre e figlia la gabbia la gabbia perché perché come spesso succede nei rapporti familiari e credo soprattutto in particolare tra quelli in quelli tra madre e figlia c'è sempre una reciproca tendenza a come dire a rinunciare a qualcosa di sé per l'altro l'altra in questo caso che è un po' l'argomento principale cioè l'argomento che in qualche modo lega madre e figlia e che anche l'una rinfaccia all'altra cioè la madre rinfaccia alla protagonista di non aver di non essersi comportata come avrebbe come lei madre avrebbe voluto e la figlia fa la stessa cosa con lei ed è d'altronde questo credo un grande leitmotiv della della vita dei rapporti familiari quello di aspettarsi un comportamento come se fosse dovuto no da parte dei genitori verso i figli e viceversa chiaramente è un libro molto sofferto perché innanzitutto parte da una situazione che comunque è una situazione che genera sofferenza ovvero la scomparsa di un genitore però ancor più sofferenza genera l'analisi di quello che è stato un rapporto sicuramente complesso e che porta fuori evidenzia una gran quantità di sensi di colpa che Silvia Ziche evidenzia proprio fisicamente con questi enormi sacchi dell'immondizia con scritto sensi di colpa che la protagonista si porta dietro che le stanno sulle spalle e che lei dei quali lei cerca di liberarsi con alterne poi vicende e cosa ne pensi tu di questo libro allora sono sicuramente molto sono stato veramente travolto dalla velocità di fruizione lo stile di Silvia Ziche è estremamente chiaro che non vuol dire assolutamente facile ma anzi è l'opposto è uno stile molto studiato e quindi anche racconta e rivela la bravura anche la fatica che questo tratto chiaro netto è dopo tanti passaggi questo tratto chiaro netto semplice porta un racconto per il quale io devo ringraziare Silvia Ziche perché nella testa di una donna difficilmente ci puoi entrare se non ci parli innanzitutto questo condizio sine qua non vale insomma anche per gli uomini tendenzialmente mi sarebbe molto piaciuto e sfido chiunque da Milo Manara in su e in giù potete anche fare una seduta spiritica e invitare chiamare Pratt Magnus o quello che volete a fare la stessa cosa con il corrispettivo maschile sarei molto interessato a vedere anche semplicemente la scelta dei personaggi la gabbia nello specifico è veramente un viaggio io l'ho letto in 50 minuti e sono un lettore molto lento in un verso un punto di vista molto molto intimo ma molto molto vicino alla al sentimento quindi appunto tratto semplice tratto assolutamente chiaro anche il trasferimento delle emozioni è assolutamente immediato quindi veramente mi ha colpito moltissimo diciamo che c'è anche una grande facilità come dicevi di di narrazione di racconto attraverso questo tratto semplice di vicende in realtà estremamente pesanti anche e credo che la riflessione che lei fa sulla maternità in generale sia veramente una riflessione diciamo difficile da digerire da sostenere perché a un certo punto entra entra in gioco non solo la maternità subita o non subita come figlia ma anche la maternità mancata la maternità ipotetica ipotetica che diventa a sua volta un senso di colpa e che rientra poi in quel grande discorso che spesso facciamo anche qui dei ruoli del ruolo della donna e del fatto che essere madre venga considerata una condizione sine qua non per essere donna in un certo tipo di società e questo discorso insomma viene fuori anche nel 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 libro della ziche e si unisce in realtà però anche una riflessione personale sulle occasioni mancate cioè su quello che poteva essere non è stato e sul perché poteva essere non è stato ovviamente anche questo si porta poi dietro una serie di sensi di colpa insomma giustificati o meno che però sono presenti evidentemente insomma nella vita di molte persone quindi è un libro che vi consigliamo non è un libro facile non è un libro diciamo di intrattenimento puro anzi però credo che sia un libro importante interessante sia dal punto di vista di una donna e quindi magari di qualcuno che può comprendere più facilmente questi discorsi ma anche diciamo con l'occhio maschile forse più curioso più lontano ma che può capire e riflettere su delle tematiche che magari sono un po meno immediate meno a portare di mano e sicuramente in questo caso c'è un'occasione molto molto buona per averle esatto per lo meno davanti agli occhi la gabbia silvia ziche feltrinali comics questo è il nostro libro della settimana libro con una copertina spaziale che cresce anche dopo la lettura perché effettivamente quelle forme possono dire un sacco di cose de chirico ci si potrebbe vedere però è esplode dopo la la lettura secondo me è un libro da regalare da prestare e poi mettere sul tavolo e parlarne è sicuramente un libro prezioso in questo senso a questo punto grazie a tutti grazie a tutti